Si terrà sabato 30 ottobre a Laureana Cilento presso la Sala delle Conferenze di Palazzo Cagnano una giornata evento organizzata dai ragazzi del Forum dei Giovani. La giornata prevede l'Eco Day nell'ambito del progetto Ambientiamoci e il gran finale con la terza edizione della festa di sapori d'autunno, degustazioni tipiche, piatti della tradizione cilentana e l'intrattenimento con la musica popolare dei Chiepò. Si parte alle ore 10.30 con le attività di animazione dedicate ai più piccoli, si prosegue con l'inaugurazione della mostra d'arte contemporanea Il Grido della Terra di Roberto Bellucci con il saluto del sindaco Angelo Serra. Alle ore 12 il primo seminario dedicato alla gestione del patrimonio forestale e sentieristico. Alle ore 17 il secondo seminario Le buone pratiche ambientali, non il come ma il perché, raccolta differenziata ed intorni. Alle ore 18 appuntamento con i libri e con il blog. I momenti di approfondimento saranno moderati dalla dottoressa Nicoletta Serra, giornalista e coordinatrice del progetto Ambientiamoci. In serata si prosegue con il flash mob tematico sulle note di Madre Tierra, a cui seguirà uno spettacolo di danza delle ballerine della scuola espressione danza di Rossella Giaimo. A conclusione degli eventi si terrà la premiazione del concorso fotografico Obiettivo Natura, a cui è possibile partecipare fino a oggi, 29 ottobre, alle ore 21. Durante gli eventi saranno distribuiti bellissimi gadget ecosostenibili. Agli eventi si accede previa a esibizione di Green Pass come da normativa vigente.